All'età di 97 anni si è spento nella sua abitazione di Roma Arnaldo Forlani, storico leader della democrazia cristiana, del quale è stato anche segretario nazionale per più volte. Marchigiano di Pesaro, Forlani è stato presidente e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli affari esteri, della difesa e delle partecipazioni statali. Per il presidente Mattarella, Forlani ha contribuito alla crescita democratica del paese, al consolidamento del ruolo italiano in Europa. Lascia un segno di grande rilievo nella storia repubblicana. Grazie.